Dicevamo che il rapporto è sicuramente almeno 1 a 10, quindi ci vanno maschere molto rinforzate che sono state curate nei minimi particolari e quindi avete visto addirittura tutte uguali. Caro numero 38, gli arancieri di via Palestro. Primo cavallante Mario Di Sanzo. Capocarro Paolo Godardi. Cavalli Ungheresi, abbiamo già visto passare una pariglia di cavalli ungheresi, eleganti anche questi, colore grigio, però le criniere sono ancora grise e scure. I colori del carro sono arancioni e blu. La grafica è una scena di battaglia con arancieri sotto le rosse torre del castello. di Ivrea lo stemma, lo stemma araldico rosso crociato sul fondo bianco che richiama i colori di Ivrea dominati da un leone con freccia.